Ba è un mostro grande, enorme, molto più grande di quest'astronave, rendo l'idea. Il suo verso è Ba, ecco perché l'ho chiamato in questo modo. Ba è davvero temibile. Ma io mi sono allenato giorno dopo giorno a evitare i suoi ripetuti attacchi. E così siamo diventati affiatati. Degli amici inseparabili. Immagino sia stato il tuo primo amico, giusto? Ma mio padre si è arrabbiato e allora mi ha detto se tu e Ba siete affiatati il tuo non è più un allenamento. Così ha sparato all'orecchio di Ba e lo ha fatto infuriare. E Ba non ha più voluto essere mio amico. Perciò se non posso stare con lui ho deciso di stare insieme al suo orecchio.